Io avrei un'idea, potremmo compiere un microculto anomalo. E cosa dovremmo rubare? Semplice no? La cattivea! E ragazzi, guardate, ho funzionato, ma secondo voi potestiamo? Sarò sicuramente imperatore, sarò un grande imperatore. Questo potente regno, la regina, sono io. Ormai l'incendio nel mio cuore rompe già. Meno male, che adesso non c'era il verore, ma la paura che mi feci a scuola, tra le lezioni per imparare a memoria, la storia di un imperatore, era per tutti un grande errore. E ragazzi, ma dove siamo? Ci vedono castelli, carrocce, e no, vibra! Stiamo parlando del 1691. Era proprio o noi o loro. Che nostalgia, dai tempi passati. E via, 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 le bambini, le bambini! Ehi, ma che bambini? Ma in cui ragazziamo? Nel 2557. Ma passate. Voi avete visto, per i vostri anni, quello che succede? Sì, il sole e il gel da la luna, l'uva di venta matura, dalla profuma tagliata, incrociamo le dita. Tu dove stai, che pianeta sei, questo avviso che non d'amore. Steli e i suoi amici hanno fatto quello che io ho fatto per anni. E le mie antenate hanno fatto la loro volta prima di me.